Luca Mazzolini di Nolan Luca allora ricordiamo che aspettiamo tutti quanti dal 6 al 9 marzo a Motodays a Roma Assolutamente sì, come ho fatto già negli ultimi due anni che quest'anno saremo presenti al Motodays a presentare tutte le novità 2014 in primis Ecco, ci mostri questa tra le tante novità Assolutamente, questa è la novità nostra di punta è un casco apribile, quindi Mark X-Lite che fa parte sempre del gruppo Nolan Caratteristiche principali di questo casco, appunto un casco apribile un casco in fibra composite, disponibile in tre diverse calotte una ventilazione che è composta da una ventilazione e una presa d'aria sulla mentoniera due presi d'aria superiore e statore superiore quindi una ventilazione che assicura il massimo comfort anche nei lunghi tragitti dotato di BPS, viserino interno parasole è omologato come jet e come integrale, quindi omologazione PJ con apposita leva per bloccare la mentoniera e chiusura sistema micro-lock Ecco, quindi per toccare con mano questa e tante altre novità aspettiamo tutti quanti a Motodays dal 6 al 9 marzo Assolutamente, vi aspetto a Motodays